Oggi vi parlerò del mondo della donna nel mondo SM, sclerosi multipla, e in particolare di alcuni argomenti che sono dibattuti, ma principalmente perché sono molto spesso aggrediti da report, da fake news e altre informazioni che falsano un po' la comunicazione. Tanto per iniziare, per esempio, la fertilità. Numerosi studi hanno dimostrato che la sclerosi multipla non compromette di per sé la fertilità, in quanto i meccanismi che regolano il sistema immunitario e che sono alla base della deregenerazione della mielina, alla base della malattia, non influiscono sugli equidibbi ormonali e quindi non comportano alcun effetto sul concepimento del bambino. In pratica, se non si è fertile, non è certamente a causa della sclerosi multipla. Altro problema molto dibattuto è quello della gravidanza. Adesso noi siamo abituati a dire che genitori si può proprio perché la gravidanza può essere svolta. Anzi, numerosi studi hanno portato al superamento del falso mito per cui ai pazienti prima veniva sconsigliato di affrontare una gravidanza. Adesso siamo esattamente dalla parte opposta, in quanto sappiamo scientificamente che la gravidanza ha un'influenza positiva sul decorso di molte malattie e, guarda caso, ha un decorso positivo proprio nel caso della sclerosi multipla. È molto probabile che gli elevati livelli di ormoni circolanti nelle donne incinta abbiano un effetto protettivo agendo direttamente sul sistema immunitario ed infatti la ricerca ha dimostrato che durante la gravidanza si assiste ad una progressiva protezione dall'attività infiammatoria correlata alla sclerosi multipla. Attività protettiva che raggiunge il picco di massima copertura nel terzo mese e se vogliamo parlare di numeri sappiamo dalle informazioni scientifiche, dall'epidemiologia, che la gravidanza porta ad una riduzione di circa il 70% della probabilità che una donna abbia una ricaduta di sclerosi multipla. Quindi la gravidanza non solo si può portare avanti ma di sicuro fa anche bene alla donna. Altro problema di cui le pazienti ci chiedono spesso è la possibile incidenza di complicanze del parametro. Anche qui basandosi esclusivamente come si deve fare nel 2020 su studi scientifici sappiamo che gli studi scientifici hanno dimostrato che la sclerosi multipla non aumenta il rischio di complicanze ostetriche in quanto di per sé non aumenta la probabilità che si verifichino eventi di aborti spontanei, immortalità prenatale e complicanze fetali.